Meno male, meno male, meno male mi sta per saltare la scheda stasera, invece bravi ragazzi, bravi tutti e due, sia Milan che Inter, però mi sono visto entrambe le partite ragazzi e quindi ne voglio un pochino parlare di Inter, Stella Rossa 4-0 e le percose Milan 1-0. Parto prima dall'Inter perché è una partita abbastanza diciamo scontata anche sulla carta, era ovvio che più o meno il risultato potesse essere una roba del genere, però c'è due o tre cose da segnalare. La prima è che secondo me, secondo me, chiaramente Lautaro ha un credito infinito, è il mio pensiero, poi nessuno deve essere d'accordo con me, Lautaro ha un credito infinito, chiaramente, per ovvi motivi perché fa 30 gol l'anno. Però, per come è partito, quest'anno in generale, secondo me e per quello che si è visto in campo stasera nonostante l'avversario modesto, secondo me Taremi meriterebbe un pochino più di spazio, un pochino, non tanto, ma un pochino più di spazio perché stasera è stato il man of the match, ok? Palloni reoperati, assist, gol, poi bella appunto anche la cosa che gli hanno lasciato battere giustamente anche il rigore per il 4-0, diciamo comunque si vede che è una squadra coesa, però peccato perché, cioè cazzo, pensare che un giocatore a Metteremi faccia panchina, chiaro, fai panchina a Turamme e Lautaro, quindi ovvio che fai panchina, però è un giocatore che è veramente sprecato. Marco Arnautovic, cioè nonostante sia Marco Arnautovic e comunque gioca bene quando gli va di giocare in generale, l'ha sempre dimostrato, anche se all'Inter magari è sempre stato un pochino sottotono partendo dalla panchina, ma l'Evato Vello ha una certa, mettiamola così, e il suo prime l'ha ampiamente superato, Taremi ragazzi ancora nel pieno delle sue indubbie capacità. Cioè secondo me meriterebbe un minimo più di spazio, poi ovviamente l'Inter c'è nel senso, c'ha una batteria d'attaccanti clamorosa, bellissimi gol di Cialanoglu. Poi a parte questo, a parte le cose positive, piccola nota negativa perché comunque l'avversario contro era modesto, molto modesto. Il primo tempo dell'Inter si è sentito un pochino questo scricchio lì o diciamo che si è visto durante l'anno in difesa. Quello che vi dicevo anche nei video scorsi per quanto riguarda appunto l'Inter in difesa, probabilmente ancora ci sono due o tre cose da migliorare soprattutto nel reparto difensivo, anche perché poi Sommer ci mette una pezza in un momento perché se no magari la partita lì poteva addirittura andare in pareggio. Quindi pensate, diciamo che la Stella Rossa avrebbe stato un piccolo smacco magari finire il primo tempo in pareggio, una roba del genere. Però a parte quello chiaramente non è successo, la partita è finita 4-0 strameritatamente e sti cazzi. Però diciamo nel secondo tempo l'Inter ha fatto che cazzo voleva, nel primo tempo qualche cosina effettivamente da rivedere c'era. Però risultato nettissimo, l'Inter ha 4 punti con un pareggio con i City in casa di City e una vittoria netta, quella che ci voleva contro la Stella Rossa in casa. Quindi ottimo così. Per quanto riguarda il Milan invece, ragazzi, allora posso essere brutalmente onesto? Io guardate, non volevo nient'altro che la vittoria di Leverkusen, non perché sono stronzo io ma perché me l'ero giocata, quindi più o meno lo sapevo. Però questo ha palle ferme, ha bocce ferme. Ma vedendo la partita posso essere brutalmente onesto e dire che il Milan è stato un po' coglione stasera. È stato un po' coglione stasera. Poi l'arbitro, vabbè, l'arbitro lasciamolo perdere. Io non sono tifoso milanista, io che in generale guardavo la partita solo per aspettare una vittoria di Leverkusen, quindi figuratevi. Però effettivamente l'arbitro c'è proprio, lasciamolo perdere. Però, arbitro a parte, che comunque qualche cosina magari, eh, qualche decisione un po' a cazzo di cane l'ha presa. Il Milan si è presentato in campo impaurito. Chiaramente l'avversario contro è un avversario che nell'ultimo anno e mezzo sembra che Gasperini gli abbia dato i Gatorade ai giocatori dell'Everkusen perché hanno vinto tutto. Cioè, nel senso, comunque, sembrano degli alieni in questo momento. Nel primo tempo hanno fatto un po' che cazzo volevano. Il Milan non ha fatto niente, ma proprio perché penso, proprio impauriti, diciamo, dall'avversario che avevano di fronte, che comunque, ripeto, è forte da un anno e mezzo, ma non è il Real Madrid. Chiaramente giocano un calcio meraviglioso, soprattutto sugli esterni, Frimpong e Grimato sono dei trattori. Però, tipo, il primo tiro del Milan, che io ricordi, si parla del quarantesimo. Ok? Un po' risiccio, se non sbaglio. Però, cosa è successo? Cioè, il Milan, per svegliarsi da questa sonno, essersi sopiti per qualche motivo dalla paura, hanno dovuto prendere gol. Ok? Che poi, tra l'altro, è anche andata bene nel primo tempo, è stato annullato, poi alla fine il gol di Boniface. Di Boniface, Boniface, insomma. Però, si fanno l'1-0 in Leverkusen, poi da lì il Milan un pochino si sveglia. Cioè, anzi, senza un pochino, si sveglia e dice, ah, ma ci sono anch'io in campo, e cominciano a creare gioco. E poi, soprattutto nella parte finale, dal settantesimo al settantacinquesimo in poi, io mi ricordo almeno, ma almeno, tre occasioni nitidissime del Milan, che, anche sfortuna, chiaramente, però, insomma, non è riuscito a buttarla dentro, però, cioè, io qui non vedo neanche tanto, cioè, Fonseca dovrebbe dare un minimo anche di atteggiamento, perché il Milan, la squadra ce l'ha, le caratteristiche del Milan, soprattutto dei suoi, diciamo, fuoriclasse, si vedano in campo nel primo tempo, Maignan ha tenuto in piedi la baracca. Nel secondo tempo, poi, con tutto il loro valore offensivo, non essere riuscito a buttarla dentro le è un peccato. Ma perché? Perché ti dovevi essenzialmente svegliare prima, di fronte non c'è la stella rossa che ha incontrato l'Inter con tutto il rispetto, però, nel senso, potevi tranquillamente far qualcosa di più, e invece ti ritrovi con zero punti, hai affrontato Liverpool e Leverkusen, quindi, cioè, nel senso, era anche pronosticabile o una roba del genere, però, contro il Liverpool sei stato presa a pallonate, e quindi, va bene, non c'hai niente da eliminare, anzi, poteva anche andare a finire peggio. Stasera, di sicuro, qualche cosa di più, cioè, il Milan poteva tranquillamente fare qualcosa di più. Poi, a me va bene, eh, a me va benissimo. Grazie, ragazzi, che vi devo dire, cioè, io sono contento, così. Però, avendo visto la partita, avendo le viste entrambe, il Milan stasera, cioè, nel senso, poteva tranquillamente fare qualcosa di più, non era possibile un pareggio, anzi, per quello che si era visto nel secondo tempo, il Milan se ne era meritato, ampiamente, capito? Chiaramente, il Leverkusen, poi, fortunatamente, visto anche il portiere che c'hanno, non ha, non è mai, diciamo, non ha mai affondato il 2-0, però il Milan, appunto, vi ripeto, doveva svegliarsi, di sicuro, nel primo tempo, perché il primo tempo è stato un tempo regalato. È proprio, parliamoci chiaro, un tempo regalato. Quindi, niente, ragazzi, fatemi sapere la vostra sotto nei commenti. Io ho visto, in realtà, tutte le partite, però, in particolare, mi sono focussato, concentrato più sull'Inter e il Milan, giustamente, perché, in generale, anche a me, nonostante io non tiffi nessuna, per, per, nessuna squadra, diciamo, fuori dalla Fiorentina, mi piace, comunque, vedere le italiane giocare in Champions. Vabbè, diciamo, comunque, una serata divertente. Divertente. Oltretutto.